Una platea gremita in ogni ordine di posto ha assistito nel Teatro Orfeo di Taranto allo spettacolo Signori Le Patè de la Maison che rientra nell'ambito della ventitresima edizione della stagione artistica diretta da Renato Forte. Sul palco la nota attrice Sabrina Ferilli con Maurizio Micheli e Pino Quartullo, oltre ad una serie di validi artisti. Un lavoro teatrale tratto dal film Le Pronome di Mattia de la Porte e Alexandre de la Patalier. L'adattamento è di Carlo Bucci Rosso e Sabrina Ferilli, la regia di Maurizio Micheli. Una comedia brillante ed accattivante che prendendo spunto da un soggetto francese ricalca gli atteggiamenti classici di una famiglia borghese. Ascoltiamo Maurizio Micheli che oltre ad escrivere lo spettacolo parla anche delle sue radici pugliesi. Ho cresciuto a Bari, io sono andato a Bari che ero un bimbo e sono venuto via che ero all'università. Città è la mia città adottiva, però mi piace anche Taranto. Cioè Taranto per me era la città domenicare, venivamo a mangiare il pesce con la famiglia. La città è bella, la città di mare, io amo le città di mare. Sono nato a Livorno, sul mare, è cresciuto a Bari. La città di mare, poi il mare qui era, spero, è bellissimo. No, 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 mi piace molto la città. Lo spettacolo mette in evidenza la bravura e la professionalità degli attori e racconta di una cena in famiglia con il marito, l'amico del cuore e i cognati nel calore delle mura domestiche. Il profumo del cibo che la padrona di casa prepara fin dal primo mattino, l'annuncio di un imminente e lieto evento e il nome da scegliere per il nascituro, la voglia e il piacere di stare insieme. Ascoltiamo Pino Quartullo. Io mi diverto sempre tantissimo, non vedo l'ora di venire in teatro perché il pubblico si sganascia, applaude, si diverte moltissimo, ma anche noi moltissimo perché la commaglia è veramente brillante. Quartullo poi parla dell'importanza della collaborazione con Maurizio Micheli. Beh, è un compagno di lavoro ineguagliabile perché con Maurizio, Maurizio è una persona leggera, è sempre simpatico, è sempre divertente in ogni momento. E soprattutto non ha bisogno di sopraffare l'attore o di imporre niente perché sa quello che va fatto, lo dice con calma e con simpatia e quindi tutti noi siamo stati felicissimi di lavorare con lui e ci siamo divertiti molto.